Finalmente, questo è il commento che gli automobilisti nuresi hanno pronunciato stamattina vedendo al lavoro i mezzi meccanici e gli operai dell'impresa che ha ricevuto l'incarico di asfaltare via Manironi. La settimana scorsa si è provveduta ad asportare allo stato superficiale del vecchio asfalto e in queste ore si sta procedendo all'implementazione di quello nuovo. Via Manironi è un'arteria fondamentale per l'accesso alla città e che da anni si trovava in uno stato di progressivo deterioramento e abbandono dovuto all'usura determinata dal grande carico veicolare che è chiamata a sopportare. Gli agenti atmosferici poi hanno fatto il resto, una strada che da anni era segnata da buche e avallamenti che l'havano trasformata in qualcosa di molto simile ad un tratturo. Una via percorsa giornalmente da migliaia di veicoli diretti dalla periferia cittadina verso il centro ma anche percorsa da tante auto dirette all'ospedale San Francesco di Nuovo. L'amministrazione comunale in più di un'occasione era stata sollecitata ad intervenire. Nei mesi scorsi si è proceduto al rifacimento dei marciapedi nel tratto della via che parte dall'incrocio con via Trieste. Ultimati i lavori adesso si sta procedendo all'abitumazione. Un intervento indispensabile per ridare decoro all'ingresso cittadino è segnare il ricongiungimento con la nuova rotonda posta all'intersezione con via Segni. Con il rifacimento dell'asfalto sarà implementata anche la nuova segnaletica orizzontale ormai completamente sbiadita e si spera nel tratto davanti alla pianeta di Ugolio verranno eliminati alcuni avvalamenti e pendenze che in caso di pioggia creavano nella carreggiata delle grandi pozzanghere estese e profonde tali da mettere a serio rischio l'incolumità degli automobilisti. I soldi a disposizione dei comuni sono pochi e le priorità sono tante. Quella della condizione delle strade non è in cima alla lista ma la situazione in cui si trovava via Manironi imponeva un intervento.